Buongiorno a tutti, mio nome è Frizzio del Maffeo, sono direttore europeo per la divisione dei servizi di Advanti, che è sud-europeo per tutta la parte di Mell. L'Italia in particolare è il secondo mercato di importanza per Advanti Cure, rappresenta circa il 21% del nostro fatturato e a differenza di quello che si legge qua sui giornali per Advanti che è uno dei mercati più interessanti anche in termini di crescita, poiché esistono molte realtà che esportano prodotti di altissima qualità e di altissima fascia, anche nel digital signage, in particolar modo nel passenger information system, che è un settore decisamente florido in fortissima crescita e governato e dominato più che altro da un numero limitato di player e molti di essi sono italiani, i quali operano in mercati sia europei che al di fuori dell'Europa, India, US, Cina, riprendizzando poi il prodotto, per cui il fatto che sia un prodotto italiano non è visibile all'utilizzazione finale. Per noi è un mercato quindi molto interessante questo, abbiamo dei fattori di crescita a due cifre, nel senso che fortunatamente abbiamo concluso l'anno scorso, il 2011 con una crescita del 78% e quest'anno siamo ottimistici, chiaramente la situazione è un pochino più incerta ma siamo certi, siamo comunque convinti che ci siano moltissime possibilità di crescita. Quando si parla di digital signage la prima cosa che viene in mente alla persona è uno schermo e un player e per player ogni volta si pensa a un pc boxato, a una soluzione, a uno scatolotto che riproduca dei filmati, ma all'interno di quell'astacolotto ci sono delle soluzioni ad altissimi, un valore aggiunto tecnologico che possono essere integrate direttamente nei monitor e che possono controllare il monitor. Questa parte di mercato che noi chiamiamo embedded è una parte poco visibile per l'utente finale ma di estrema importanza, con un valore aggiunto estremo, con soluzioni che permettono all'utente finale di fare cose impensabili fino a pochi anni fa, controllo della rete ma anche dell'hardware stesso, quando si parla del controllo delle singole porte, il controllo dell'accensione della macchina, dello stato di tutti i sensori, delle temperature, tutte cose che si possono ottenere con una sola scheda computer, una scheda pc industriale in mente. Per andante che è il mercato certamente più importante, rappresenta a livello globale circa il 55% del nostro fatturato, per cui parliamo di 470 milioni di dollari e in Italia in questo momento rappresenta circa il 70-75%. Grazie.